Ancora una morte bianca nel retino. L'ultima tragedia si è consumata venerdì pomeriggio a Camucia dove ha perso la vita un operatore ecologico Giancarlo Andreani, travolto da una mezzo della nettezza urbana che stava facendo retromarcia. Aveva 56 anni e da circa due mesi aveva iniziato a lavorare per la cooperativa Futura che aveva avuto in appalto i servizi di raccolta da sei Toscana. Erano le 17.40 quando si è verificato il drammatico incidente consumato nella zona del cosiddetto compattatore di Camucia dove i camion scaricano i rifiuti. Il 56enne sarebbe stato schiacciato da un mezzo guidato da un collega durante una manovra, forse una distrazione alla base del dramma. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato al telefono di spalle al mezzo. Chi era la guida del camion non si sarebbe accorto di lui, travolgendolo. Immediati soccorsi del 118, per oltre mezz'ora i medici hanno tentato di rianimare l'uomo ma senza riuscirvi. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa di successivi esami. La procura di Arezzo ha inoltre aperto un fascicolo. L'attenzione come al solito sulla maggior sicurezza sul lavoro e poi vedremo anche dalle indagini in corso quello che verrà fuori, cosa diranno insomma, sulle responsabilità e su cosa è successo. Da inizio anno sono otto le morti bianche che si contano nella provincia di Arezzo, quattro solamente negli ultimi tre mesi. Un bilancio drammatico. Ci siamo troppo racchiusi ognuno nelle sue specifiche competenze. Se non rompiamo, se non rompete le righe e non si incomincia a cooperare, come spesso ripeto, in maniera seria, rischiamo di stare su questa maledetta strada.